Ben trovati anche per la pagina dedicata allo sport, iniziamo con i motori, grande vittoria lucchese al rally degli abeti. Il lucchese Luca Pierotti affiancato da Manuela Milli con una Peugeot 208 T16 R5 ha vinto il 36esimo rally degli abeti e dell'abetone, valido per il campionato regionale toscano AC Sport organizzato dalla S. Abeti Racing in collaborazione con l'AC Pistoia. Una gara spettacolare e avvincente incerta fino agli ultimi metri nella quale l'avvocato lucchese ha sfoderato grinta e determinazione per sopraffare sfortune avversari. Partito in testa nella prima giornata Pierotti ha dovuto fare i conti con un testacoda che lo ha relegato all'undicesimo posto. A quel punto la leadership è passata nelle mani di Fabio Pinelli in coppia con Antonio Bugelli su Skoda Fabia R5. Il driver di Bugiano ha resistito al comando sino all'ultima prova speciale del Melo. Arrivata alla soglia dell'ultimo impegno cronometrato con 7 secondi di scarto da Pinelli. Pierotti è attaccato con decisione andando a vincere la prova, 5 sui successi parziali su 7 prove, chiudendo con 2 secondi e 9 decimi di vantaggio su Pinelli Bugelli. Al terzo posto l'equipaggio Montecatinese Moricci Garavaldi su Hyundai i20 R5. Ed ora il calcio. La lucchese aspetta l'uscita dei calendari e anche di sapere quale sarà l'entità della penalizzazione. La lucchese è in ritardo rispetto alle avversarie. La rosa è stata costruita con una infornata esagerata di nuovi arrivi. Per questo mister Favarin, al di là delle qualità dei singoli, avrà il suo bel da fare in vista dei primi impegni di campionato. L'8 settembre verranno diramati gironi e calendari. A breve si comincia e presto si saprà anche l'entità precisa della penalizzazione con cui la lucchese si troverà a dover fare i conti. Ecco perché, al di là della forza e della provenienza geografica delle 19 avversarie, sarà importante avere una squadra pronta a misurarsi soprattutto con le difficoltà di un campionato che scatterà con un gap negativo durissimo da recuperare. Importante sarà quindi anche il lavoro dei dirigenti che, se da una parte, devono ancora lavorare per sanare il problema fiduzione, dall'altra hanno l'obbligo di infondere alla squadra la fiducia necessaria a superare lo scoglio psicologico di una partenza d'handicap. Ancora calcio, risultati di calcio giovanile. Dopo la giornata di sosta è ripreso il settembre lucchese, la manifestazione storica organizzata dal San Macario in collaborazione con Toscana gol. In programma due gare, la prima ha visto scendere in campo la categoria giovanissimi con la vittoria per 3 a 1 del Cgc Capezzano contro il Forte dei Marmi. Poi la volta degli allievi, pareggio tra San Filippo e Cgc Capezzano che così ha promosso ai quarti di finale giallo-blu di Ernesto Cagliazzo. Al Memorial, Cordischi ad Alto Pascio. Goleada per Tao Calcio e Pisa nella quarta giornata. Vincono anche Atletico Lucca e Pistoiese sul sintetico dello stadio di Alto Pascio. Il Pisa ha piazzato nove reti al Maliseti-Tobbianese. Bene anche l'Atletico Lucca che ha avuto la meglio sull'Africo per 1 a 0. Sette i gol firmati dal Tao Calcio contro il San Mignato Siena. Infine la Pistoiese ha vinto sul Pontassieve per 2 a 0. E con il calcio giovanile termina anche la nostra pagina sportiva. Breve break, poi la terza parte del telegiornale.